Andrà all'asta il catamarano Termoliget, arrugginito da anni nel porto sull'Adriatico in attesa di conoscere il proprio destino. L'asta è stata fissata all'istituto vendite giudiziarie del capoluogo martedì della prossima settimana. Prezzo base 2 milioni e 216 mila euro, comprensivi di accessori ricambi e carburante. Sulla nave da crociera, finanziata dalla regione molise per circa 14 miliardi di vecchie lire, in favore della società La Rivera, dopo il nulla di fatto in sede di processo penale, c'è adesso l'appello della Procura della Repubblica per il danno era reale maturato nel corso degli anni. L'imponente nave da crociera, realizzata con fondi pubblici per un progetto di collegamento tra le coste molisane e quelle della Croazia, è rimasta praticamente ancorata allo scalo di Termoli, a marcire senza alcun risultato per nessuno, tranne che per le tasche degli imprenditori della LTM, società di trasporti che aveva ottenuto i finanziamenti a trattativa diretta e privata, è sciolta cinque anni fa. Il caso è tornato in auge grazie all'occhio attento della Corte dei Conti. Secondo la Procura, infatti, la prescrizione del danno era reale, che ammonta a circa 7 milioni di euro, non è ancora maturata. Martedì 28, forse si saprà qualcosa in più sul catamarano, ennesimo scandalo politico-imprenditoriale del piccolo Molise.